Vi porto in viaggio con me per conoscere le città e i paesi più belli d'Italia. Riccarda ci presenta Andrea. È arrivato il momento di fare un breve giro per la nostra città, Andrea. La città è uno dei tanti possedimenti normanni che, con l'ascesa degli svevi, passano nelle mani di questi ultimi. La nostra città è molto vicina al Castel del Monte. Sono solo 18 chilometri. Andiamoci di corsa. Ci siamo quasi! Eccomi è arrivata. Il castello è conosciuto a livello mondiale per la sua pianta uttagonale. È un edificio medievale, commissionato da Federico II di Svevia. Ammiratelo! Questo è l'arco di Federico II per celebrare il ritorno dalla Sesta Crociata. Lo sapete che Andrea è la città dei campanili? Primo campanile, il campanile della cattedrale. All'interno della cattedrale c'è la cappella dedicata a San Riccardo. E qui è custodita la Sacra Spina. Secondo campanile, quello di San Francesco. Terzo campanile, San Domenico. Oltre ad essere una città ricca di storia, Andrea è anche una città molto golosa. Voglio farvi conoscere il museo più dolce del mondo, il museo del confetto. Loredana è la direttrice di questo museo. Come ti è venuta la passione per i confetti? Ciao Riccarda. Questa passione è nata tanto tempo fa grazie al mio bisnonno, che è colui che ha iniziato questa dolce attività. E dunque io adesso rappresento la quarta generazione, proprio perché lui ha iniziato questo lavoro nel lontano 1894. Eccoci tornati al posto da cui eravamo partiti, il Chiostro di San Francesco. Perché non venite a trovarci? Ci vediamo presto per visitare un'altra città. Ah, dimenticavo! Mettete un like su In Viaggio con Alice. Ti è piaciuto questo video? Iscriviti al canale e continua a seguirci!